Si era calato all'interno di un profondo scavo da poco realizzato con una ruspa per svolgere una serie di accertamenti quando improvvisamente una parete gli è crollata addosso. Ancora un altro incidente sul lavoro in provincia di Arezzo è successo questa mattina lungo la strada provinciale 47 ad Anghiari. L'uomo, un tecnico sismologo di 53 anni, originario del Frosinate, ha subito lesioni multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Si trovava sul posto per delle operazioni legate alla sua professione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica della Valtiberina ed un'ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Accertamenti sono in corso sulle cause dell'incidente anche da parte dei tecnici della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asla. Il 53enne è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Carenci a Firenze.